Da uomo, cioè, poi dipende per quello da uomo ci sono le M, le L, XL, le S, vabbè le S sono già tipo da ragazza, non proprio da uomo, comunque le M. Cari amici, buonasera, faccio auguri a Thomas Bigardi, il suo fratello David, loro miei iscritti, mi scrivono sempre messaggi, anche io sono iscritta al loro canale, e voglio regalare, voglio parlare con tutti quelli che mi guarderanno domani e oggi e stasera e per favore iscrivetevi al loro canale perché voglio che avranno un piccolo regalo per il suo cumpleaños, qualche nuovo iscritto. Ecco qua, loro due gemelli che proprio bellissimi, intelligenti, 13 anni e domani, una età bella, importante, guardate com'è, fanno video bellissimi e meravigliosi con suo fratello gemello che si chiama David, è così uguale, uguale, uguale che anche io ho difficoltà, anche io ho difficoltà di distinguere. Si vede da brava famiglia, cameretta, tutta per bene, ci tengono, mi piacciono, loro, se voi avete canale, loro ricambiano iscrizione. Che appunto, domani il mio compagno, vabbè, dico domani, anche se per me è domani, quindi fatevi gli auguri sotto i miei commenti, o si telegram se volete scrivermi, quindi fatevi gli auguri, cioè lei non è, e vabbè, quindi domani si mangia una torpa. E ci vediamo sabato con il video del primo giro, in teoria se ne basta qualcosa, e comunque un bacione. E ci vediamo alla prossima. Un bacio, David. Allora, comunque dimenticavo il bucchetto per la bicicletta. Che bravo ragazzo. Anche se questo mio video qualcuno guarda, anche più tardi, a maggio, metà estate, iscrivetevi a Thomas Bigardi, David Bigardi, che c'è sul canale, che ragazzi meravigliosi, tutto canale davanti, e io penso che loro avranno un bel futuro nel suo canale YouTube. Auguri, Thomas, David, auguri! Buon compleanno! Tantissimo, un bel abbraccio a tutti e due, vi voglio bene. A presto, aspetto vostro nuovo video.